Ciao ragazzi, un weekend horribilis, speriamone le women, a proposito adesso tra poco mi metto a vederle, quindi farò un video, questo è un video abbastanza stretto, ma anche perché non è che ci sia molto da dire, l'Eco ci umilia 4-0 e io avevo messo in preventivo, che ce l'avevo detto che l'Eco è un'ottima squadra, che soprattutto in casa fa molto bene, aveva vinto 4-0 anche il derby col Cuomo, il Cuomo è primo in classifica con anche un bel distacco, la cosa che mi irrita parecchio è stata proprio l'atteggiamento dell'Under-23 completamente cannato, e questa è una cosa che già abbiamo problemi con la prima squadra, adesso vedere anche l'Under-23 entrare con questa spocchia sinceramente mi è innervosito parecchio, ci siamo trovati 2-0 e poi questi sono forti, cioè questi sono forti soprattutto in casa, e infatti poi nel secondo tempo in contropiede, anzi già il secondo gol in contropiede, da polli abbiamo preso anche il terzo e il quarto gol, un 4-0 che ripeto per il Lecco fa pari al 4-0 l'ho fatto nel derby Lombardo, però onestamente oggi dall'Under-23 mi aspettavo, sono più deluso oggi che col pareggio con la Lucchese, perché con la Lucchese una partita ci poteva stare, sbagli partita, sei giovane, squadra giovane, per carità, non mi sarei mai aspettato sinceramente di vedere un'Under-23 così negativa adesso, cioè dopo questa partita con la Lucchese mi aspettavo una risposta dall'Under-23 che non solo non l'ha data ma ne esci veramente male, veramente male, si poteva perdere, però mi aspettavo una gran partita dell'Under-23, invece ho visto veramente una partita pessima e l'atteggiamento sbagliato, questa è la cosa che mi rode maggiormente, comunque complimenti all'Eco perché dimostra comunque di avere un buon progetto, magari non verrà sui Serie B ma è un'ottima squadra e sicuramente mi ha fatto i complimenti, per la Juve io oggi tra i migliori in campo metto ancora Brighenti perché mi dà la sensazione a volte che sia l'unico ad avere la mentalità giusta per la categoria, è vero che è un uomo di esperienza, però francamente oggi sono proprio molto molto deluso dall'Under-23, più che con la Lucchese, non per la sconfitta ma perché non c'è stata proprio quello che mi aspettavo, c'è una reazione d'orgoglio dopo il pareggio, i due punti buttati con la Lucchese. Ora ragazzi io vi saluto, vado a vedere le Juventus Women, come ho detto secondo me il migliore in campo è Brighenti, e speriamo che le Women mi facciano questo regalo perché oggi veramente il weekend calcistico è stato deprimente, a più non posso, speriamo veramente che le Women non ci facciano qualche sorpresa, perché ci manca solo la sorpresa negativa delle Women per chiudere male proprio un weekend, che è iniziato male e sta finendo peggio. Ragazzi io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi del canale, ciao a tutti.